La destinazione è scritta a Dercilio, siamo in compagnia del professore Filsmeier. Voi vuole mangiare? Tu non vuole mangiare niente, anzi mangiare niente bene una settimana. Ma che faltavo legato a stare? Meeeeeeh meh 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 meh. Non ho scredito! Ma tramite FSM, non lo so stiamo con l' Assimut... ... ... ... ... ... Ma che 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 non ci ha già lui hai fatto? No, ma che che è fatto da do l'arte. Da l'arte. Da l'arte. Da l'arte. Se lo vedete Renato staremo finito.